Gentilissimi utenti, una buonasera a tutti. Vi illustro subito il servizio di questa sera. 25 settembre 2022, giorno fino alle 23, delle votazioni nazionali e per la regione Sicilia per quanto riguarda la mia terra. Io non ho votato, tuttavia ho un dovere civico votare di ogni cittadino, ma abbiamo una democrazia che se sarà la Meloni penso che si spezzerà. Comunque vi lascio il servizio di Fabio Russo Sic, servizio che parla da solo. Buona visione. Chi tocca è un gran figlio di p***a. Dopo lo spingo col primo e lo sapete che poi ci arriva a 40.000. I stati inaugurarono anche la morte quando ero in ospedale. Non muore mai la tigre, mai! Ricordandolo, mai! Sono venuto a fare un po' di spesa, spero sempre di beccare qualche emulfer, ma Dio santo!